Archiviata positivamente l'Aquila Città Europea dello Sport 2022 con oltre 60 eventi, tra cui alcuni di caratura internazionale che hanno coinvolto oltre 100 associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio e contato 50.000 presenze, il Comune dell'Aquila continua a puntare sullo sport con un nuovo progetto dal titolo Rinasci con lo Sport, promuovere l'Aquila con lo Sport 2023. Ed ecco dunque che l'ente ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la creazione di un cartellone di eventi sportivi e ludici ricreativi, volti a promuovere la cultura sportiva, incentivare la pratica motoria e valorizzare le bellezze turistiche della città. Enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, associazioni o società sportive dilettantistiche, altri enti ed organismi, nonché l'ufficio scolastico regionale, tutti coloro che intendono organizzare iniziative ed eventi di carattere sportivo in città e nelle frazioni, possono presentare il proprio progetto di candidatura entro e non oltre la mezzanotte del 31 marzo prossimo, scrivendo all'indirizzo email a curinasceconlosporto.it. Le proposte da inserire nel programma di eventi dovranno riguardare manifestazioni agonistiche non da realizzare a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, con eventuale coinvolgimento anche di personaggi e atleti testimonial, ma non solo, possono essere organizzate anche mostre fotografiche ed esposizioni, convegni, seminari, conferenze ed altro, tutto comunque in materia di sport. Un comitato costituito ad hoc valuterà poi le proposte pervenute.